Sono con noi Pierpaolo Sileri, sottosegretario della salute per il Movimento 5 Stelle. A Piacenza la situazione è positiva, a Bologna è pessima. A Benevento la situazione è positiva, a Napoli è pessima. Come si fa a chiudere tutto? Allora, lei mi pare che sia abbastanza contrario a un lockdown generalizzato, se ho capito bene. È esattamente così. Diciamo, io credo che la divisione per colori dell'Italia ha funzionato. Ovviamente hanno funzionato le misure di Natale, che sono state più rigide, ma era un altro momento. Cioè a Natale vi era lo spostamento, vi erano gli acquisti e quant'altro. Sono necessarie chiusure, come giustamente avete detto nel servizio, mutuato da ciò che ha detto il Comitato Tecnico Scientifico. Laddove i casi superano i 250 ogni 100.000 abitanti, lì la zona deve diventare sicuramente rossa. Ma è chiaro che vai a salvaguardare quelle aree dove invece l'andamento del virus è minore. Cioè, faccio l'esempio della Sardegna. La Sardegna è fondamentalmente bianca. Se tu fai un lockdown nazionale vai a colpire una regione che ha lavorato bene, continua a lavorare bene e ha il virus sotto controllo. Il problema viene fatto anche rilevare quello di controlli che non sono molto puntuali. Perché, per esempio, sono delle persone che violano queste e queste, però non vengono... Viene sanzionata una parte, mentre durante l'inverno c'è stata una... e nella passata stagione, diciamo, è stato un controllo molto fermo, adesso è molto più labile. Questo, francamente, non va bene, nemmeno questo, insomma. E allora si rigidiscono i controlli nel periodo del weekend senza andare incontro a delle chiusure assolute. Una dose, quasi 4 milioni, 3 milioni 947 mila. La seconda dose, 1 milione 200 mila. Sono stati somministrati 5 milioni 668 mila dosi, ma non somministrate 1 milione e mezzo. Quindi questo significa che c'è una potenzialità. E speriamo adesso che la Task Force, il generale Figliuolo, di Curcio, il capo della protezione civile, possa provvedere perché, insomma, è molto imbarazzante che ci sia 1 milione e mezzo di dosi nei frigoriferi. Soprattutto adesso che non bisogna conservarle per la seconda dose perché dovrebbero arrivare. Dovrebbero arrivare la seconda dose, non sbaglio. Esattamente, cioè queste sono le dosi che io credo giustamente fin dall'inizio sono state tenute ferme perché per fare la prima e la seconda, soprattutto con questi dubbi, perché, l'avete detto voi stessi, cioè qui le industrie ogni settimana vi è un blocco, un ritardo, un qualcosa, sono state lasciate per fare la seconda dose. Ma io credo che bisogna avere coraggio e andare anche oltre questo e cercare di ritardare la seconda dose perché studi, non so, credo il professore Remuzzi potrà confermare ciò che dico, mostrano che con tutti i vaccini, anche quelli ad mRNA, un ritardo della seconda dose è possibile avendo poi più o meno la stessa efficacia. Quindi anche ritardare di una, due, tre settimane la seconda dose, certo è una scelta coraggiosa ma potrebbe essere utile per vaccinare... Rispetto alle tre settimane di protocollo, credo senza andare oltre le due o tre settimane ma credo che serva coraggio, anche perché poi le altre dosi arriveranno ma insomma ritardare le due o tre settimane consentirebbe di usare queste dosi ad esempio per completare le vaccinazioni degli anziani, abbiamo fatto un milione e mezzo di persone... Noi abbiamo quattro milioni e mezzo, più o meno, di persone sopra gli ottant'anni di novantenni 361 mila, gli ottantenni diciamo 1 milione e 150, 1 milione e mezzo su 4 milioni e mezzo questo è un dato inaccettabile, poi i settantenni finora sono stati completamente saltati soltanto 185 mila dosi, poi vedete 60-69, 700 mila, da 40 a 59, 2 milioni e poi tra 16 e 39, 1 milione e 100 cioè sostanzialmente sono stati vaccinati esattamente quelli che hanno da 16 anni e 39 anni lo stesso numero di quelli che hanno 80-89 anni e questa però, scusi, è un'ingiustizia grossa Allora, questo è dipeso dalle restrizioni che sono state fatte all'inizio sul vaccino AstraZeneca e quindi tu riservavi le dosi che avevi dell'MRNA ai soggetti fragili e agli anziani Ora, con l'innalzamento dell'età sopra i 65 anni di AstraZeneca si liberano dosi il che significa avere più dosi disponibili per gli anziani e per i fragili Io me lo auguro, però andiamo a guardare anche qua, questa è un'altra tabella abbastanza scandalosa Operatori sanitari e sociosanitari, 2 milioni e 569 mila Qui diamo per scontato, anche se il numero è un po' perché la somma di medici e infermieri è molto più ridotta di questa Ma qui mettiamoci le persone, diciamo, in contatto con i pazienti, quindi portantini, eccetera, sacrosanto Personale non sanitario, questa me la devi spiegare Un personale che sta in ufficio, lei mi spieghi, 933 mila persone perché sono state vaccinate Ok, questo andrebbe chiesto ad ogni singola regione, ad ogni singolo aso Sicuramente vi è un personale amministrativo che sarà circa il 20% del personale sanitario che è sul campo Ed è giusto vaccinare anche il personale amministrativo perché dentro un ospedale quando io mi reco in una direzione sanitaria, una direzione amministrativa, dove sono gli amministrativi Io da medico posso veicolare il virus all'interno Ma se io medico sono vaccinato? No, evidentemente Se il medico è vaccinato il rischio dovrebbe essere vicino a zero Ci siamo un po' allargati, dai, ci siamo allargati Però diciamo che ci saranno moltissimi imbucati che spero che verranno All'italiana brutta Un mistero resta i medici di famiglia Perché noi avevamo festeggiato la sottoscrizione di un accordo Oggi abbiamo sentito Domenico Crisarà che è il vice segretario nazionale della federazione Lì sono abbastanza divisi i sindacati Insomma questa è la federazione dei medici di medicina generale E dice quasi nessuna regione con molti medici di famiglia Anche quelli che avevano assicurato l'accordo regionale prima del protocollo nazionale Poi alla fine non avrebbero proceduto Come stanno le cose? Sono stati coinvolti, il ministero li ha coinvolti sicuro Anzi l'accordo è stato fatto proprio grazie al ministero Sicuramente serve dare un impulso maggiore alle regioni Sul dialogo con la distribuzione dei vaccini ai medici di medicina generale In questo momento alcune regioni ne danno davvero pochi Cioè pochissime dosi, 22 dosi al mese Cioè due fiale di AstraZeneca Ci sono due fiale di AstraZeneca Che sono 11, peraltro si ricavano 11 dosi da ogni fiale di AstraZeneca E' chiaro che quando arriveranno più vaccini il coinvolgimento sarà maggiore Cioè ad oggi il coinvolgimento è stato più limitato Perché i vaccini che avevamo a disposizione fino a qualche settimana fa in prevalenza Erano vaccini ad mRNA che andavano conservati in una cadena del freddo Quindi distribuiti negli ospedali e quant'altro E' chiaro che con l'arrivo di più dosi di AstraZeneca La distribuzione di AstraZeneca in persone anche sopra i 65 anni Vedrà un loro crescente coinvolgimento su tutto il territorio nazionale Molti lamentano che hanno lo studio piccolo eccetera Allora quelli che hanno lo studio piccolo però Preleviamoli e accompagniamoli a vaccinare in uno dei centri Nei centri Per un giorno lasceranno lo studio e andranno a vaccinare là Io credo che l'esempio del Lazio senza nulla toglia anche ad altre regioni che stanno funzionando benissimo L'esempio del Lazio debba essere preso come modello anche per altre regioni Grandi grossi hub dove sono possibili addirittura 3.000-3.500 vaccinazioni al giorno E ovviamente gli ospedali Cioè l'esempio del Lazio è davvero un esempio da prendere come modello anche per molte altre regioni